Quando questa mattina hanno visto il principale consigliere di Boris Johnson, Dominic Cummings, fuggire letteralmente da Downing Street, gli inglesi hanno capito quello che stava succedendo e poco dopo ne hanno avuto conferma. Il premier su Twitter ha comunicato di avere il coronavirus. Sintomi lievi, ha detto Johnson, spiegando che continuerà a guidare il paese pur restando in isolamento. Contagiato è in isolamento anche il suo ministro della sanità, Matt Hancock. Tutto questo mentre l'Inghilterra vede crescere rapidamente il contagio e registra il numero più alto di morti in un giorno, 181. La situazione è sempre più drammatica in Spagna, dove il Parlamento ha ufficialmente prorogato la quarantena all'11 aprile. Gli ultimi dati dicono che i contagiati sono 65.000, 10.000 più di ieri e 769 le vittime in 24 ore. Dunque il virus non dà tregua e continua a diffondersi ovunque. Sono ormai oltre mezzo miliardo le persone contagiate. Un terzo della popolazione mondiale è costretta a rimanere chiusa in casa. Gli Stati Uniti hanno superato la Cina per numero di casi e dopo le tensioni dei giorni scorsi, Donald Trump ha chiamato il presidente Xi Jinping proponendogli di collaborare nella lotta al virus. Lo stesso Trump e il francese Macron inoltre nei prossimi giorni annunceranno una iniziativa comune. Collaborazione ora è il nuovo slogan della comunità internazionale, anche se poi ogni Stato deve fare i conti con la propria situazione. A New York si contano 40.000 contagi, ma secondo il sindaco Bill de Blasio potrebbe ammalarsi metà della popolazione. A far discutere negli Stati Uniti però sono le linee guida che si stanno adottando negli ospedali e che rischiano di discriminare in caso di emergenza i disabili fisici e mentali.